Ciao ragazzi benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie survival vanilla Allora ragazzi oggi abbiamo un po' di cose da fare prima per iniziare l'episodio Volevo tanto dirvi che effettivamente per un problema ho perso l'episodio precedente Che tipo è stato in 20 minuti e quindi vi faccio un piccolo riepilogo Non abbiamo fatto molto però insomma è meglio spiegarvelo tranquillamente adesso prima di iniziare la puntata Però come sempre vi invito a lasciare un bel like mi raccomando a condividere il video e iscrivervi al canale E iniziamo subito la puntata della serie vanilla Ricordati di iscriverti e di attivare la campanella per non perderti nessun video Allora ragazzi vi dicevo cosa è successo nella scorsa puntata Sono riuscito a prendere un bel po' di ossidiana Mi ha permesso di fare finalmente un enchanting table Ho perso un po' di livelli perché sono morto a causa di uno scheletro E mi sono fatto anche il portale per il nether Abbiamo esplorato abbiamo visto cose abbastanza interessanti Potranno servirci in futuro Infatti abbiamo trovato una bellissima fortezza vicino casa E quello è un vantaggio che sicuramente molti vogliono avere Perché una partezza vicino casa significa andare subito a farmare dei blaze E fare anche una farm di blaze in futuro Anche perché ho sempre voluto fare una farm di blaze Perché non l'ho ancora fatta mai una in vita mia E quindi che poi è un'automatica intendo Non quella normale l'ho sempre fatta insomma Però insomma voglio vedere come fare questa cosa Per il momento però inizierei facendomi una bella armatura Anche perché ho bisogno di un'armatura completa Visto che molto spesso ho attacchi da parte dei nemici Quindi è meglio evitare di morire e farvi una bella armatura completa al 100% Come in questo caso Perfetto Ora cosa bisogna fare Bisogna un attimo andare a raccogliere un po' di queste patate Che forse aspetterei per raccogliere perché sono ancora messe così male E potremmo iniziare oggi già a produrre la nostra prima casa Dove la faremo? Sempre in questo bioma ovviamente Però dall'altra parte del ponte Ah ho anche recuperato i book rubandoli da il loro E tipo ho anche dato loro un piccolo golem di ferro Che non so nemmeno se sta ancora perché tipo L'avevo craftato però non so se effettivamente funzionerà Comunque le l'ho dato perché magari loro avevano bisogno di questa cosa Quindi ho detto eh tenetelo tanto io non ne faccio nulla per il momento E anzi beh in realtà non ne faccio qualcosa Però ho preferito darglilo perché tanto Sti cavoli sono dei piccoli amici Che ci donano le cose Quindi forse almeno un golem se lo sono meritati Dai diciamo almeno uno Lasciamo però adesso in questa maniera un po' di queste robe qui dentro Devo portarmi con me sicuramente questo che mi servirà Le patate le lasciamo Il secchio d'acqua non serve Questo non serve Questo non serve Il cibo ci serve E mi servirà un sacco di legno Anche perché la nostra prossima casa sarà ovviamente Come potete immaginare di legno Perché? Perché il legno mi piace un casino Lo sto utilizzando tantissimo E spero di poterlo utilizzare al meglio Anche per questa nuova casa Questa casa avrà due piani Sarà molto piccolina Molto basilare Anche perché non sarà una casa con dentro un magazzino Perché il magazzino lo faremo sicuramente a parte Oh niente Ricopriamo la roba che ci serve Che sono queste cose qui Sicuramente dovremmo andare in giro a cercare altre cose Quindi ovviamente un po' di bombi me lo faccio Aspettiamo che arrivi la notte Quindi quasi quasi vado anche a far la nanna Così siamo sicuri al 100% che sia tutto a posto Quindi aspetta un attimo che sia anche notte Bene ora che notte possiamo andare a costruire la nostra casa Allora come dicevo sarà dall'altra parte Questo portale poi lo distruggeremo Non preoccupatevi Al massimo creeremo una zona Credo creerò tipo un mezzo castello Che conterà il mistero del nostro portale del nether Per il momento è messo lì perché devo comunque arrivarci in qualche maniera E probabilmente sarà anche un problema il portale del nether Messo un po' a caso perché forse potrei morire mentre lo piazzo Perché poi vi spiego come è fatta la mia zona vicino al nether Però in teoria essendo qua vicino Se non ci spostiamo più di 1000 blocchi Dovremmo restare più o meno fino lì E quindi il portale dovrebbe portare la stessa parte Allora dove voglio fare la casa molto bella e molto carina Devo dire di farla ovviamente qua sopra Dai abbiamo un bel po' di spazio Possiamo rompere queste cose Abbiamo questa piccola zona che sembra proprio a dire Guarda questo è un ingresso di casa E possiamo farla senza dubbi problemi Magari distruggiamo qualcosa per renderlo un pochetto più spigoloso Perché vorrei un attimo fare più spazio qui Perché magari potremmo farci una farm vicino a casa Anzi sicuramente lo faremo E almeno quella iniziale giusto di Witt la voglio fare Allora mettiamo per il momento questa card in table qua L'altra avevo levata lì mi sembra di sì più o meno Vabbè non ci interessa Come vedete ho levato la texture Però ora utilizzo la texture default in Minecraft E nient'altro E vediamo un po' cosa riusciamo a fare O niente per poter iniziare questa cosa Ho bisogno di tanta legna normale Perché ho bisogno della legna normale Perché a me piace tantissimo costruire utilizzando direttamente questo wood Invece del wood insomma già lavorato Che secondo me è carino da usare Però non per tutto Devo ricordarmi inoltre di utilizzare anche una nuova spada Anche perché la mia vecchia sta per distruggersi E forse è anche ora di farsi una spada in diamante Abbiamo ancora a disposizione credo due diamanti Quindi dovremmo farcela Tutta più possiamo comunque andare in giro a cercarne altre Anche perché per il momento ci siamo fermati con dell'esplorazione e tutto quanto Ma presto continueranno Non preoccupatevi Le mele ci servono Mele d'oro utili Non quelle di noccio Perché non si possono ancora fare O più che altro non si possono più fare Però insomma Quelle normali possono essere utili Per combattere contro qualsiasi tipologia di mob Credo di avere abbastanza legna Quindi siamo a posto Adesso possiamo costruire la nostra prima parte di casa Allora direi che Sicuramente la facciamo un po' più grande Vediamo un po' Scegliamo più o meno questa zona Questa zona è 3 Quindi questo sarà tipo più o meno una cosa naturale È naturale ragazzi Non l'ho fatto nulla vi giuro E quindi cosa faremo Faremo in questo modo Facciamo due da questa parte Due da questa parte Quindi questa sarà la grandezza E per quanto riguarda la larghezza La facciamo piccolina Non troppo grande come vi dicevo Quindi più o meno così Perfetto Poi di qua ovviamente ci sarà una nuova zona Ma la facciamo dopo Non è quello il problema E saliamo di tot blocchi La possiamo fare all'interno con del legno più scuro Infatti ovviamente non dovrò prendere anche quel legno più scuro Per il momento però Alziamoci più che possiamo Con la casa Ovviamente sono due piani Un pochetto grande Bisogna farla E dobbiamo andare allo stesso punto Togliamo anche la torcia Che ovviamente abbiamo piazzato prima Vediamo un po' quanto riusciamo a fare Credo sia giusto Sì perfetto Quindi andiamo anche dall'altra parte E poi costruiamo anche l'interno Non so se facciamo giusto le cose Anche perché non sto contando i blocchi che spendo Però più o meno Dovrebbe essere giusto così Perfetto Dovrebbe essere più o meno Insomma Blocco più blocco meno Dovremmo esserci Forse questo è un pochetto più alto Vediamo un po' Ok no No era giusto Perfetto Quindi così in questa maniera Ci siamo Adesso mi tocca Costruire il resto Allora più o meno Dove vogliamo far finire Il primo strato Direi che lo facciamo finire Per il momento di qua Quindi facciamo in Questa maniera Ovvero Andiamo a utilizzare Questi blocchi qua di clay Per farci una cosa del genere Ovviamente questo qui Sarà un problema Perché devo per forza fare Come ho fatto per quanto riguarda Il mio ponte Ma hai detto ponte E fare in questa maniera Dove sono partito dal quarto blocco 1 2 3 4 E devo fare quindi anche così Perfetto In questa maniera Così possiamo farlo uguale E quindi facciamo 1 2 3 4 E facciamo così Giusto No è più sopra Ok quindi dal quarto blocco In poi Quindi così Perfetto Quindi facciamo in questa maniera E costruiamo Il nostro piccolo E prezioso posto Allora Qua ho sbagliato di nuovo Giustamente Perché sono stupido Ah no Mi sa che facciamo così giusto Ok quindi facciamo Da questa parte di nuovo In questa maniera E poi niente La parte finale di sopra La facciamo subito In questa maniera Opla Non posso Va bene Sti cavoli La facciamo di nuovo adesso Senza problemi Ricostruendo tutto quanto Così Bene Abbiamo creato quindi Questa parte qua Che è un pochetto Più interessante E questa servirà in realtà Per creare Insomma La disparità Tra il primo piano E il secondo piano Forse l'ho fatto un po' più alto De quello che dovrebbe essere Perché adesso ci penso Questa parte qui Forse è un pochetto Troppo grande No Tanto al massimo Possiamo ampliarla Perché va bene Una casa alta Non troppo bassa Perché ci piacerebbe Anche fare una casa così Quindi per ora Lasciamo così Ora bisogna un attimo Riempire tutto E iniziare a fare il resto Non dimentichiamoci Di recuperare comunque i sapling Che poi dobbiamo ripiantare qua Anche perché dovrebbero Ricrescere appena possibile Per fare nuovi alberi Anche perché abbiamo Sempre bisogno di alberi Ragazzi Ci sono un bel po' di mucca Vicino a questo bioma Quasi quasi Le potremmo uccidere E sapete che lì C'è anche la parte relativa Alle montagne Non male Potremmo farci un roller coaster Un roller coaster Mi è sempre piaciuto come idea Perché è figo È bello Un pochetto difficile da fare Ma sicuramente Insomma Ne vale la pena Tanto anche Devo dirvi una cosa Molto brutta Che mi spiace anche a me Non sono mai salito Sulle montagne russe Perché Da piccolo Era abbastanza bassino Non che adesso sia un gigante Però adesso almeno Arrivo quasi a un metro e settanta Era piccolo invece Era un po' bassino Più bassino Di quello che sono adesso E quindi non mi facevano salire Sulle roller coaster E quindi io No volevo andare Niente Non mi hanno mai fatto salire Quindi in conseguenza Non ce li ho mai provate E mi sa che Quasi quasi Una delle cose che farò Prima della fine di quest'anno Forse quest'estate Non lo so Non credo Però quest'estate Forse è un po' difficile È provare finalmente Le montagne russe Poi vi dirò come sono E sono fantastiche Secondo me però Non so ancora come saranno Quindi vedremo in futuro Comunque questi 23 blocchi Dovrebbero bastare Credo di sì Abbiamo pure delle canne da zucchero Quasi quasi le rubo Ma tanto Boh vedremo Comunque La cosa bella ragazzi Vi ricordate quel fiumiciatolo Che vi dicevo Bene quel fiumiciatolo E questo Risultante di questo Perché dovrebbe essere Quello che continua Di lì Ma che vada Se non continua Lo facciamo continuare noi No Credo comunque Faccia dei giri assurdi Ma è lo stesso fiume Che passa attraverso il nostro ponte Quindi immaginate Quanto diamine Va lontano E probabilmente finisce Nell'oceano Che sta più avanti Quindi Voglio farlo Perché Secondo me Una bella tratta Con questo traghetto Che porta attraverso il fiume E carinissimo da fare Ovviamente con le barche Novali di minecraft Però Vende l'idea Di un bel tragitto Sul fiume Bello Tranquillo Leggero Molto spettacolare Magari ci facciamo qualcosa Anche sopra Rieccoci a casa Perfetto Quindi adesso possiamo andare Con il nostro spruce wood E per il momento Dobbiamo riempire Questa parte qui Anche perché Comunque va fatta Con un colore più scuro Avrei preferito Un altro colore più scuro Ancora Quello dark Però Non abbiamo foreste vicine E quindi non possiamo Sfruttarlo per il momento Quindi lasciamo perdere Per quanto riguarda Questa facciata Lo vediamo dopo Perché comunque Dove ancora pensare A quanto farla grande Cosa farci comunque dentro Dovrei avere ancora due stack Quindi diciamo Anzi uno stack qualcosa Quindi dovrei farcela Stal più Per il momento Facciamo magari Il primo piano Poi pensiamo al secondo Quando abbiamo del tempo Ovviamente per non sfruttare Troppo legno E utilizzarne comunque abbastanza Facciamo la nostra Il nostro pavimento In questa maniera Per quanto riguarda La salita Eh devo pensarci Perché non ho idea Di come farla Sinceramente Comunque In questa maniera Abbiamo a disposizione Un po' di legno In più Sempre se riesco A pezzare bene Le slab E ci leviamo Il problema In questa maniera Così sembra anche Che tipo Addirittura Ha dei piedi Nella nostra casa Però non è completamente Diciamo A se stante Direi che comunque L'idea non è male Ovviamente Posso magari Fare Che ne so Qualche ingresso Così Ovviamente Sarà chiuso Immagino Però vediamo un po' Come fare E ovviamente Però ho finito Il legno Quindi devo per forza Farne altro Sicuramente Qualche altra slab Mi potrebbe servire Quindi ne facciamo un paio È rimasta una witch Ad aspettarci Va bene Ora vediamo come Reagire Ai suoi attacchi Anche perché probabilmente Mi butterà la pozione Di poison Ne sono completamente sicuro E vabbè Vediamo un po' Di ucciderla Va La cosa brutta È che c'è pure Un botto Di Di cuori Insomma Non è facile Da buttare giù Facciamo in questa maniera Ho pensato Che mi servirà Dell'altro Non è normale Perché ora che ci penso Possiamo fare Tipo una mezza Cosa che sale Come Sono questi In sostanza E Vediamo un attimo Se è cresciuto qualche albero No però possiamo farlo crescere No se vogliamo Vediamo un po' Abbiamo piazzato qualche Sapling qua Solo uno Eh gli altri Mi sa che non l'ho ancora piazzato Io ve lo faccio Non è un problema E questo è alto No è quello Abbastanza normale Perfetto Quindi rompiamolo Bene Vi ci ho dato 6 di questi Benissimo Perché a me Tanto me ne servono 4 Quindi facciamo In questa maniera qua Non così Ma alzati Così Perfetto Questa parte Di nuovo qua E il resto Vabbè ci siamo E per quanto riguarda Le fence Devo farle adesso Perché mi serviranno Delle fence E le facciamo Ovviamente Normali O poi le facciamo nere Oddio Potremmo anche Farle così Sinceramente Così rendiamo Le cose un po' più diverse Dal solito Però non so Ma non so Quanto possono starci Ci stanno Ma non troppo Beh dai Ci sta comunque Il fatto di cambiare Un po' colore Eccoli qua Vediamo un attimo Se riusciamo a fare Quello che ci serve Per quanto riguarda Meno l'altezza lì Non credo di farcela Questi 12 Per nulla Mentre per quanto riguarda La mia idea Dovrebbe essere Più o meno così In questo modo Ok E di qua Dovrebbe Tipo partire Il secondo piano Ok Quindi questo ci sta Qua sicuramente Non ce la facciamo Perché ce ne servono Molti Ma molti Ma molti Di più E da questa parte Ovviamente Devo andare avanti Con Normalissime slab Quindi devo fare tipo In questa maniera Vi faccio vedere Tipo così Così Dobbiamo proseguire ancora Va bene Questo spazio è un po' diverso Perché tanto qua Adesso faremo questa cosa Mi sa Per quanto riguarda Il pavimento Ma magari possiamo farlo così Sì Vedi che va bene E bisogna continuare Con questa cosa Qua Qua continua Ricordiamocelo Quindi questo bisogna Comunque distruggerlo Mettici questo E qua fare un piccolo Balconcino Molto Leggero Non troppo Di cattivo gusto Che comunque Ci può aiutare Un pochetto Ovviamente Per rendere il tutto Più carino Ci mettiamo Questo legno diverso Che va a chiudere Tutto quanto In questa maniera Perfetto Vediamo un attimo Se ce la facciamo Dovremmo farcela Infatti ce la facciamo Perfetto E quindi di qua Ci facciamo Soltanto adesso Un po' di slab Però manchi poco Comunque la seconda parte Magari la facciamo Nella prossima puntata Così sento un po' I vostri consigli Per capire un po' Come farlo Ovviamente Insisto Le parti Le parti un pochetto Più interessanti Che sono i dettagli Li faremo Presto Per ora Facciamo giusto La struttura Per capire Quanto vuole farla grande E comunque Mi piace l'idea Di fare questo Balconcino Da questa parte E quest'altro Cosa da questa parte Ovviamente Magari possiamo Farlo un po' Più naturalistico Bene Quindi questa parte L'abbiamo fatta Sariamo un attimo Sobre Vediamo un po' Com'è Ok Quindi di qua Continua Da questa parte In questa maniera Vediamo un attimo Se riusciamo A far salire Questo coso Possiamo vedere Bene come fare E Va bene Così Va bene Vediamo come facciamo Il balconcino Magari possiamo Fare così Ok Così che Risulti più utile E qui facciamo Il balconcino Tipo Girando da questa parte Niente Abbiamo finito anche Il bomb meal Quindi mi sa Tanto che Completiamo per il momento Questa parte E poi vediamo il resto Ci servono Delle altri stick A questo punto Li faccio così Tanto questi Sono più facili da farmare E quindi Vediamo un po' Ce ne servono davvero pochi Quindi non facciamone troppe Ok Così vanno bene Sono sei Ok facciamo le nove Forse nove vanno meglio E andiamo a vedere Come riusciamo a creare Questa cosa Per la sand abbiamo Tipo vicino ovunque Direi La sand Quindi ci siamo E questo dovrebbe essere Più o meno così Perfetto Quindi questo è il balconcino Ovviamente possiamo farlo anche Sopra con un tetto E la parte relativa al tetto Poi ci pensiamo A fine anche quello ci serve Quindi Io per il momento vi saluto ragazzi Questa prima parte della casa È completa Quasi completa in realtà Mancano dettagli Manca qua fare un tetto Chiuso Quanto Anche perché questo Penso di farlo In realtà In questa maniera Così abbiamo tipo Due cose Non così così Troppo grande Qui a proposito Questa sia una finestra Giusto La facciamo un po' più alta Giustamente Così abbiamo a disposizione Anche un bellissimo E fantastico tetto In questa maniera Ma dobbiamo completarlo Quindi ragazzi Io per il momento vi saluto Ci vediamo nella prossima puntata Ditemi in commenti Cosa ne pensate Di questa casa Ve la faccio vedere Magari più da lontano Anche se comunque Siamo un po' limitati Forse è meglio Salire con i blocchi Faccio vedere quindi Com'è così Da questa parte Dimmi cosa ne pensate Da questo è tutto Ciao ciao E ci vediamo presto A un nuovissimo video Ciao ragazzi